Qualche giorno fa Papa Francesco, proprio domenica, tornando alla Romania, ha detto una cosa, non la vediamo, la ricordo soltanto, ha detto che l'uomo è l'unico animale che incade due volte nella stessa buca, l'asino no. E questo l'ha detto commentando quello che vede in Europa, il tornare di alcune paure, ha detto che questo gli fa ricordare gli anni 30, gli anni che hanno poi prodotto la storia che ci ha raccontato e che conosciamo bene. È d'accordo, vedi anche lei dei segnali di questo tipo? Beh, sicuramente vedo anch'io dei segnali di questo tipo, ma li vedo in un'ottica personale, diversa, perché secondo me questi segnali oggi non si ha paura di mostrarli, di pubblicarli, di pubblicizzarli, di fotografarli, di sottolinearli, mettiamoci tutto quello che mi viene in mente in questo momento. Perché fino a pochi anni fa sarebbe stato osceno mostrare sentimenti che ricordavano addirittura a un livello così alto atmosfere di allora. Erano persone che subito dopo la seconda guerra mondiale non avrebbero potuto continuare a dire ad essere fascisti, nazisti o dimostrare quei simboli che invece sono stati sdoganati da qualche anno. Devo dire, io ho sempre immaginato che fossero sopiti, perché non si possono cambiare le persone, popoli interi da un giorno all'altro perché scoppia la pace, finisce la guerra. Quelle persone che fino a ieri erano la personificazione del male altrui fuggono, spariscono, si mimetizzano, cambiano nome, cambiano atteggiamento, cambiano anche faccia perché ci fu qualcuno che addirittura cambiò i propri lineamenti ma non può cambiare la propria coscienza, il proprio cuore, quello resta uguale. Grazie a tutti.